Proseguono fino al 23 aprile gli incontri del Caffè Letterario nei locali della Biblioteca della Regione Piemonte a Torino, occasioni per conoscere opere di autori ed editori piemontesi ogni giovedì alle 15 e 30. Prossimi appuntamenti il 9, il 16 e il 23 aprile con la presentazione dei libri C'era una volta Camin, lo stile e il genio di Vladimiro Caminiti di Roberto Beccantini, Silenzi, il destino alle 18 di Giovanni Cordero e Dimentica di Graziella Naurat.